Ucciso e mutilato, Tito e Bob si accusano a vicenda. I due imputati sono accusati di aver ucciso Mahmoud Abdallah. Il barbiere 19enne assassinato a Genova e mutilato nel luglio dello scorso anno prima di essere buttato alla foccia del fiume Intella e ritrovato nel mare davanti a Santa Margherita Ligure. Scarica a Barile e accuse incrociate tra i due imputati accusati di aver ucciso Mahmoud Abdallah. Il barbiere 19enne assassinato a Genova e mutilato nel luglio dello scorso anno prima di essere buttato alla foccia del fiume Intella e ritrovato nel mare davanti a Santa Margherita Ligure. Nel corso del processo stamani sono andate in scena le deposizioni dei due datori di lavoro, Abdel Hamal Ahmed Gamal Kamel detto Tito e Mohamed Ali Abdel Ghani detto Bob. Secondo la PM i due avrebbero ucciso il ragazzo perché aveva deciso di andare a lavorare in un altro negozio e di denunciargli ai sindacati per i turni di lavoro massacranti e la paga troppo bassa. Tito prima lo ha ucciso a coltellate davanti a me nell'appartamento di Genova Sestiponente e poi a chiave gli ha tagliato la testa e le mani e la versione di Bob che ha ribadito la sua innocenza. Tito mi ha minacciato, lui ha tanti soldi, ha minacciato me e la mia famiglia in Egitto aggiunge sostenendo che per questa ragione lo avrebbe aiutato a disfarsi del cadavere. Tito ha invece scaricato sul fratello di Bob a cui era intestata la barberia di via Merano a Genova e che dopo l'omicidio è stato in Egitto. Sarebbe stato lui ha detto Tito il mandante dell'omicidio. Non ho mai avuto problemi con Mahmoud, dichiara i giudici della corte d'assise. Bob ha colpito con un pugno all'occhio Mahmoud e si è riparato con le mani ed è andato verso la cucina. Allora io sono intervenuto. In cucina c'erano due coltelle e Mahmoud ne ha preso uno, quello portato in casa da Bob. Siamo caduti e cadendo il coltello si è infilato. Poi Bob ha sfilato il coltello e ha iniziato a colpirlo. La prossima udienza è fissata per il prossimo 8. Un altro bavaglio dell'amministrazione Solinas al dibattito democratico in città. A distanza di nove mesi la storia si ripete. La mozione a firma del nostro gruppo sulla spinosa. A questo punto vicenda dell'ex segretario generale presentata nell'ultimo consiglio comunale con lo strumento dell'urgenza ma non accolta viene riproposta all'assemblea per il consiglio convocato per il lunedì prossimo e viene nuovamente stralciata. Ad affermarlo il gruppo consigliare di opposizione del centro-sinistra, Progresso per Sestri, Sestri un passo avanti, che dice ancora c'è forse qualcosa da nascondere? Questa amministrazione comunale continua a nascondersi dietro il dito della forma burocratica, ignorando la sostanza per paura di confrontarsi, continuando a dare una rappresentazione di sé poco trasparente e democratica. Una vera e propria folla ha presenziato al funerale di Cristina Marini, 72 anni, ucciso lo scorso 19 settembre dal marito Giampaolo Bregante, nella loro casa di via antica romana occidentale a Sestri Levante. I funerali si sono svolti nella Basilica di Santa Maria di Nazareth. Nei manifesti funebri il figlio della coppia ha voluto che comparisse anche il nome del padre che ha ucciso la donna che era in preda alla depressione. Il malessere degli ultimi anni di Bregante è ampiamente documentato nell'interrogatorio di convalida dell'arresto da parte del giudice che ripercorre la drammatica situazione familiare con il marito più volte operato e malato di cuore e la moglie che da anni non voleva più assumere farmaci antidepressivi. L'avvocato che difende Bregante ha chiesto gli arresti domiciliari in una struttura dove poter continuare le cure, oltre ad una perizia psichiatrica alta a comprendere il da Raptus che ha portato il comandante di lungo corso a sparare alla moglie. I cantieri per gli interventi infrastrutturali finanziati con i fondi per lo sviluppo e la coesione possono iniziare. Regione Ligure ha approvato in via definitiva il piano da 69 milioni di euro destinati alle infrastrutture stradali e a nuove tratti di ciclovia tirenica allo scolmatore del bisagno. Nell'Evante Ligure arriveranno 300 mila euro a Moconesi. Per il secondo lotto dei lavori di messa in sicurezza di una frana a Lavaggi, 340 mila euro a Mezzanego per opere di messa in sicurezza stradale a Isola Soprana di Borgo Novo, 1 milione e 925 mila euro a Cogorno, 1 milione e 550 mila euro per un intervento di messa in sicurezza e consolidamento di un tratto di strada comunale in via Benedetto Chiappe e 375 mila euro per il consolidamento strutturale della careggiata stradale in via Maggiolo. E poi ancora 880 mila euro ad Avegno per opere di messa in sicurezza e consolidamento statico di strade comunali, 950 mila euro a Framura per il secondo lotto degli interventi di sistemazione del torrente a Castagnola e della viabilità in sponda sinistra dal ponte della Ferrovia al mare e 2 milioni di 677 mila euro a Varese Ligore per 5 diverse opere di mitigazione delle criticità idrauliche in diverse località. Frisinghelli, l'artigiano e giardiniere che nell'agosto dello scorso anno ha ucciso il suo vicino di casa Alessio Grana a Santa Margherita Ligore ha agito per legittima difesa reagendo ad un'aggressione ingiusta. Lo scrive il giudice nelle motivazioni della sentenza di condanna due anni e venti giorni per eccesso colposo in omicidio colposo, una sentenza che aveva soddisfatto i legali del giardiniere. Ciò che difetta, continua il giudice, è tuttavia la proporzione tra la difesa e l'offesa perché se è vero che l'aggressione con il bastone ed il ferro giustificava anche il ricorso al coltello, è certo che esso non andasse direzionato verso un organo vitale poiché non emerge che con l'anima del mattarello, per quanto in ferro, Grana fosse in grado di privare i frisinghelli della vita. L'omicidio era maturato dopo mesi di cattivi rapporti tra Grana e i condomini, i quali lo avrebbero segnalato più volte le forze dell'ordine e i servizi sociali. La vittima non aveva un lavoro stabile ed era conosciuto a Santa come aggressiva e prepotente. Quella sera Grana avrebbe prima aggredito verbalmente il vicino e la figlia, poi avrebbe picchiato contro la loro porta di casa. Frisinghelli aveva aperto l'uscio e il suo vicino lo aveva colpito con un pezzo di legno. A quel punto l'aggredito aveva afferrato da un ripiano accanto la porta un coltello e aveva colpito Grana. Era stato lui stesso a chiamare i carabinieri. Non può conclusivamente ritenersi che l'imputato abbia volontariamente contribuito al verificarsi della situazione offensiva per il solo fatto di aver aperto la porta di casa, prosegue il giudice. Infine, secondo la GUP, non vi fu una volontà di uccidere e per questo ha derubricato il reato in omicidio colposo. Domani, dopo domani e domenica torna Chiavari in Coldplay. Per permettere l'allestimento e lo svolgimento dell'evento sono previste alcune modifiche alla viabilità nel centro città di vieto di accesso e transito per i veicoli in via Martelli della Liberazione e via Vittorio Veneto dalle 9 di domani fino alle 7 di lunedì 30 settembre. Di vieto di accesso e transito in piazza Mazzini a partire dalle 14 di venerdì. Di vieto di sosta con rimozione forzata in tradizione della circolazione veicolare in piazza Matteotti e Corso Garibaldi fino a via Del Pino dalle 14 di venerdì fino alle 14 di lunedì. Infine, di vieto di sosta con rimozione forzata in via Casaretto dalle 14 di domani venerdì fino alle 23.59 di domenica. Sotto il diluvio oggi Lorenzo Finn, 17enne di Avegno, il nuovo campione del mondo juniores di ciclismo su strada e porta all'Italia la prima medaglia d'oro ai mondiali di Zurigo nella prova in linea juniores. Dopo aver vinto il titolo italiano sia in linea che a cronometro Finn ha conquistato dunque anche la maglia e ridata vincendo per distacco la prova in linea. Finn ha impiegato due ore, 57 minuti e 5 secondi. A secondo posto il britannico Sebastian Gridley, terzo l'olandese Senna Remin. Nel mondiale su strada in corso di svolgimento in Svizzera, lunedì scorso Finn aveva già partecipato alla prova a cronometro piazzandosi al settimo posto. Fine alla prima stagione nella categoria di signores di papà inglese Lorenzo si divide tra Genova e Avegno come detto e corre nella formazione tedesca Grenke che è il vivaio della Red Bull.